Ciao, benvenuti a Cazzeggio Catabiotico Ciao, benvenuto in un altro episodio di Cazzeggio Catabiotico anche questa puntatona dal colore di Retrocomputing oggi esploreremo i due manuali utenti dell'Olivetti M20 anche se Olivetti M20 è un business computing ignorare questa storia compiuta nella dimensione dei manuali sarebbe stato un errore tuffiamoci quindi a bomba nell'esplorare il primo business computer prodotto da Olivetti ricordando che Olivetti M20 fu una macchina proprietaria prodotto dal 1982 al 1984 altro anno in cui poi fu tolto dal mercato la motherboard non fu riutilizzata ad esempio per un downgrade per entrare nel mercato home computing con il marchio MSX ma Olivetti M20 fu buttato nel cesso al suo posto arrivò Olivetti M24 che era però un compatibile MS-DOS tuffiamoci a bomba nei manuali dell'Olivetti M20 Olivetti M20 personal computer guida all'installazione e all'uso questo è un manuale 182 questo è un manuale 182 Olivetti eccolo qua la M20 doveva essere collegata ad una stampante c'aveva uno Zilog Z80001 e parecchia memoria era una macchina molto veloce avrebbe potuto avrebbe potuto processare il CPM ma alla Olivetti decisero di optare per un sistema operativo proprietario ovviamente l'hardware che poteva essere agganciato da solo Olivetti questa era una soluzione tipica e classica a quei tempi dato che sostanzialmente sia Apple che Comodo avevano da sempre la tendenza ovviamente a vendere le proprie macchine con propri sistemi operativi e agganciandoci al proprio hardware ora peculiarità di questo manuale come si vede è che forse i Olivetti già meditavano di utilizzare l'Olivetti M20 come una macchina di home computer perchè diciamo sullo sfondo della guida della figura della guida installazione all'uso si riconosce la presenza di un letto quindi l'idea di una camera quindi probabilmente uno studente di università o comunque delle superiori e quindi questo lascerebbe pensare che vi fosse a chi ebbe a creare l'Olivetti M20 il retro pensiero di utilizzare questa macchina cercando delle sinergie anche per un mondo dell'home computing d'altronde diciamo l'Olivetti M20 uscì sul mercato nel 1982 quando la Commodore nel 1980 aveva già proposto il Commodore Vick 20 che era poco più di un giocattolino ovviamente l'Olivetti M20 era molto superiore al Commodore Vick 20 che aveva solo 5k di ram questa scena aveva 128 e poteva essere sponsored se non mi ricordo male a circa un paio di mega o qualcosa del genere dovrei andare a vedere meglio le specifiche comunque in ogni caso era una macchina che come prestazioni velocità e ram era una macchina anche come prezzo totalmente diversa dal Vick 20 però evidentemente chi aveva concepito la macchina dell'Olivetti M20 aveva già posto un occhio nei confronti del potenziale mercato dell'home computing di cui l'Olivetti ebbe a sbatterse nei coglioni fino al 1987 anno in cui ebbe a proporre il protest questo lo si capisce perché praticamente nel vecchissimo manuale dell'Olivetti del 1982 si vede praticamente nella copertina lo sfondo di una camera e che questo chiaramente non può essere non può essere lo sfondo di un ufficio e non può essere nemmeno lo sfondo praticamente di un libero professionista o di un architetto o di un avvocato e nemmeno l'ufficio di contabilità di qualche azienda perché chiaramente qui si riconosce il letto il lumicino con varie coppie, la radiosveglia, dei libri cioè è un'ambientazione con calendario decisamente home computer e quindi questo lascia intendere molto andiamo a vedere quali sorprese possiamo trovare nella guida all'installazione e all'uso dell'Olivetti M20 del lontanissimo 1982 che qualche illuminato praticamente ingegnere già aveva allungato praticamente l'occhi sul mercato del praticamente dell'home computer che però poi i non-Olivetti non lo considerarono allora pre-requisiti nessuno riferimenti PCOS, MS, DOS, guida utente CPM86, guida utente linguaggio basic, manuale generale linguaggio ASME, guida utente linguaggio POSCAL, guida utente distribuzione, prima edizione dell'83 ecco, edizione settembre dell'83 dunque, andiamo a vedere successivamente nel capitolo 1 abbiamo la introduzione presentazione dell'M20 capitolo 2 installazione e precauzioni da adottare capitolo 3 dischetti, dischi e drive il 4 per incominciare capitolo 5 uso del PCOS di cui andremo poi successivamente a vedere il relativo manuale capitolo 5 poi abbiamo 6 uso dell'MSDOS poi abbiamo capitolo 7 uso del CPM86 installazione dell'MSDOS del CPM86 sull'hard disk e poi abbiamo dunque ma basta poi non abbiamo non abbiamo altro ok andiamo a vedere questo manuale descrizione del manuale descrizione del manuale eccoci qua paginazione piuttosto chiara e piuttosto pulita elegante con due righe sopra e sotto questo poteva processare aveva linguaggio assembly linguaggio pascal PCOS MSDOS CPM86 linguaggio basic introduzione dunque vediamo un po' chiaramente l'MSDOS non era la versione diciamo quella per l'886 l'MSDOS ma era una versione a sé introduzione descrizione del capitolo presentazione dell'M20 componenti principali intercentrale video e stampa eccolo qui questo era praticamente ricorda un pochino il case dell'Apple 2e in cui la tastiera era inserita in un monoblocco in cui ci stava praticamente la scheda madre però i disk drive nell'olivetti l'avevano inseriti sempre all'interno praticamente nelle case della scheda madre con la tastiera mentre l'Apple 2e e l'Apple 2e praticamente questa parte dei dischi ce l'avevano esterno con un nuovo disco sopra oppure con un disco esterno cominciamo il disk drive spiede l'accensione del drive e tastiera con tastierino quindi una tastiera in formato diciamo estesa e piuttosto moderna poi avevamo qui l'eventuale spazio per un disco fisso interno quindi era una macchina decisamente business perché i rischi fissi per il mercato dell'home computer erano cose spaziali che uno non sapeva nemmeno a cosa erano nel 1983 spia di alimentazione spazio del template e ok targhettatura e questo era il monitor video chiaramente monocromatico vediamo un po' scelta dell'ambiente per M20 come inserire da attaccare come diciamo il disimballo della M20 cosa si trovava i vari fogli da documentazione ci sono anche delle fotografie eccoli quindi di cosa c'aveva gli spinotti interruttore poi c'aveva il connettore video interfaccia parallela un'interfaccia seriale e con connettori vuoti da mettere per eventuali interfacci con evidentemente c'erano tre slot sulla motherboard collegamento del video se in capo di alimentazione non è che fosse praticamente difficile di accendere un Olivetti M20 ecco dischetti dischi e drive ok come maneggiare i dischetti va bene inserirli l'utilizzo per incominciare ecco la tastiera con il tastierino numerico si spiega che sembra una tastiera americana era una qwerty con la W e la M qui accanto alla N stranamente l'Olivetti non aveva localizzato la tastiera per una diciamo localizzazione italiana cioè i caratteri italiani c'erano ma il formato di layout era indubbiamente nordamericano utilizzo dei tasti accensione autodiagnostica il reset con il pulsantino qui ficcato qui di lato in maniera molto accessibile ma comunque assaggio sul video uso del PCOS ok che cos'è il sistema operativo comandi del cost correzione degli errori per l'utente dell'artbis caricamento del cost i prompt del cost identificatori di disk drive e quanto controllo il dischetto e quant'altro ok scordiamoci il manuale in modo da vedere cos'è il sistema operativo caricamento del PCOS che è il sistema operativo ho più approfondito il dischetto del sistema operativo dunque del PCOS comandi cost e interpreti basic quindi si caricava il sistema operativo con l'interprete basic che poi rimaneva in un ram non c'era praticamente nulla in rom tranne le prime routine per caricare la macchina dischetti di olivetti come inizializzare un dischetto i volumi i file uno spazio creazione un file copio copio in un dischetto questi sono i comandi del sistema operativo contenuto il dischetto del PCOS questo era un disk drive a doppia densità ovviamente una soluzione business nulla che spartire con i disk drive della Commodore che si spaccavano erano molto più performanti questi dell'olivetti che erano a doppia densità rispetto a quelli del disk drive dell'Apple che erano a singola faccia ma che comunque erano sempre veloci e ottimo non comparabili chiaramente con questi che era una soluzione più business preparazione di un dischetto vabbè io vado più veloce perché tanto non c'è niente di particolare il link per scaricare il manuale lo trovate in descrizione l'uso del CPM86 ecco qui si incominciava a spiegare il sistema operativo CPM86 che cos'è il sistema operativo CPM86 che era quello che poteva infatti essere processato ok anche qui niente di particolare ci sono sintassi differenti installazione dell'MS DOSO del CPM86 sull'air disk questo chiaramente velocizzava la macchina invece da buttare dal dischetto si buttava dal disco fisso che era molto più veloce di un dischetto come controllare il vostro ordine va bene questo era in relativo a tutti i codici aggiunta di moduli interni cosa si poteva aggiungere alla più grande piazza quindi inviniamo un po' più grande piazza al circuito dell'M20 ecco questa era praticamente la scheda madre qui avevamo connettori per la gestione del praticamente connettori per piastre interfacce opzionali e piastre con processori alternativi qui abbiamo tre connettori tre slot lo spazio della RAM prima la zona della Epro va bene questa è la scheda madre adesso è la circuferia va bene si apriva il coperchio da sopra e era parecchio complicato indubbiamente smontare uno di 20M20 non era una cosa più semplice ecco era molto più semplice si apriva che il cofone già ci si agitiva questi già vedevano a togliere i viti togliere i cosi una cosa piuttosto complicata per accedere praticamente sollevare la tastiera quindi è una cosa sicuro non accessibile a persone che non avevano mai visto un computer ecco qui le zone degli slot dove mettere le interfacce ok vediamo un po' messaggio d'errore dell'autodiagnostica altri messaggi d'errore che potevano essere aggiunti ulteriori prestazioni di test e poi ok vediamo un po' diciamo che finora questo manuale era business ma poteva andare anche per il mercato dell'home computing non c'era niente che non fosse diciamo fosse impedito c'erano figure c'erano tutto ok questa è la prima parte passiamo al secondo manuale fotocopiato dell'olivetti m20 professional computer operating system sul pc manuale dell'utente fotocopiato e poi scannerizzato ok andiamo a vedere che cosa c'era questo era solo dedicato praticamente al pc il pc os del 1982 lontanissimo 1982 traduzione impriamo a conoscere la m20 è praticamente identico a quell'altro scorriamolo velocemente quando è del pc os torniamo un po' cosa c'era impariamo a conoscere la m20 capitolo 2 mini floppy disk avvio e arresto della m20 capitolo 4 più approfondito esame della tastiera capitolo 5 6 uso di pc os per la prima volta 7 una profondità divisione del pc os parte 2 prestazioni del pc os poi abbiamo il file system comandi per la gestione dei volumi comando per la gestione dei file comando per la personalizzazione del pc os comandi generali di ausilio dell'utente e una serie di appendici che andremo a vedere ok andiamo a bomba vedremo a conoscere la m20 eccoci qua si ritrova diciamo alcune fotografie questo è stato scannerizzato mazzi fotocopiato e poi praticamente riprende in parte quello che abbiamo visto precedente con il fatto che e qui sono stati rimossi le parti della ms dos e anche del cpm se lo vediamo un po' caricamento del disco ci sono parti che sono praticamente rimaste immutate approfondito dalla tastiera e ne è dato più spazio chiaramente all'uso del pc os che era il sistema operativo nativo dell'olivetti proprietario il vtm20 fu prevalentemente venduto con il pc os anche se avrebbe potuto far girare sostanzialmente la versione del cpm il vtm20 con il suo sistema operativo pc os che aveva un basic abbiamo visto che veniva caricato da dischetto interfaccia linea di comando con interprete basic e poi praticamente faceva girare i programmi né più né meno quello che poi ritroveremo appunto sul che c'era già sull'apple 2 e che ma apple 2 apple 2 e apple 2 c che poi fu venduto praticamente al sono venduti come home computer quindi praticamente questo olivetti m20 difettava solo della mancanza di una risoluzione grafica e della parte sonora aveva un botto di ram 256k che chiaramente poteva essere diciamo sottodimensionata all'epoca la ram costava tantissimo poteva essere sostanzialmente ridotto come dimensione della ram e poi la macchina poteva essere magari carrozzata in altro modo e venduta indubbiamente al mercato home computing con lo zilog aderendo ai prerequisiti dell'msx quindi avremmo potuto esserci olivetti poteva fare un olivetti msx già nel 1984 quando introdusse l'olivetti m24 rimuovendo l'olivetti m20 per cui avremmo potuto avere un olivetti msx con un disk driver che magari esterno un registratore esterno ed un monitor indubbiamente sarebbe stata tutta un'altra cosa nel mercato dell'home computing italiano comandi per la gestione dei file qui tanto vado avanti perché tanto discuto della msx perché tanto questa parte è praticamente identica a quella precedente con la differenza che in quello manuale originale dell'83 fu praticamente rimosso era stata aggiunta la possibilità di far processare più sistemi operativi quest'altro successivo era stata rimosso la parte del ms che si focalizzava solo sul pc os e basta comandi generali di ausilio per l'utente e poi era stata aggiunta una serie di parti speciali tutta una serie di appendici che invece nell'altro manuale originario non c'era il punto è il fatto che la copertina qui del questo manuale era stato ecco qui appendici questi non c'erano quello precedente nell'originario tutta la tabella non c'era equivalenze di caratteri asci caratteri speciali non c'erano tutta questa parte di appendici versione nella tastiera non c'era i vari layout non c'erano non c'erano appendici per i tastieri internazionali poca roba versione usa asci va bene versione italiana tabelle asci versione francese localizzazioni poi questo potremmo interessare relativamente agli utenti a meno che con il basic non usassero il carattere chr dollaro per far stampare i caratteri speciali una questione di programmatori errori del basic PCOS eccoci qua questo poteva essere benissimo un manuale utente cui però abbiamo visto che con i messaggi errore e tutto mancava soltanto la parte della grafica e del sonoro che chiaramente non ci aveva ecco questa seconda versione dell'olivetti manuale utente lm20 è stata rimossa dal modello precedente alla parte dellmsdos nativo per lo zilog e era stata rimossa anche la parte del cpm e erano state aggiunte praticamente la parte sulle appendici però già qui si vede che la rimozione del disegno indicano il fatto che questa è una macchina che poi era stata dal manuale riadattata solo per il mercato business e non si pensava proprio minimamente di collocarla al mercato home mentre invece nel manuale precedente abbiamo la copertina dove ci sono efficaci rinvii che fanno pensare che l'olivetti già nel 1982 quando era l'ingegnere che aveva pensato alla macchina probabilmente già pensavano in un qualche modo guardavano al mercato dell'home computing per quanto diciamo come livello di prezzo l'olivetti m20 non fosse proprio una macchina una macchina non era per niente una macchina home computing ma sicuramente pensavano praticamente a un downgrade della motherboard per utilizzare magari riutilizzare parecchia roba dell'hardware e portarlo diciamo ad una macchina di tipo msx e abbiamo praticamente le prove osservando la copertina questa seconda copertina in raffronta a quella precedente per questa puntata è tutto un saluto ciao alla prossima ciao